Le stelle del Nouveau Cirque a Genova, per la prima volta portate allo Stadium Performer di livello internazionale. Cosa vi aspettate da questa città e dai genovesi? Ci aspettiamo una risposta calorosa, sicuramente una grande presenza di pubblico come tutti gli spettacoli, immagino, ma in questo caso ancora di più perché lo sforzo che abbiamo messo per raccogliere veramente quello che c'è di meglio a livello mondiale del circo contemporaneo, del nuovo circo, è stato grande e quindi uno spettacolo del genere non capiterà probabilmente mai più. Nel senso che anche Raffaele De Ritis, che è il critico di circo più importante in Italia, anche a livello europeo, quando è venuto a vedere lo spettacolo nella passata edizione ha detto voi siete pazzi, un cast così non ce l'ha nessuno. Effettivamente io ho fatto tre spettacoli con il Cirque du Soleil, ho lavorato tanti anni con loro, so per certo che una media di ogni spettacolo del Cirque du Soleil ha cinque o sei numeri di spicco e più il resto è un po' di riempimento perché loro buttano molto anche sulla produzione. Invece noi abbiamo fatto molto poco fumo e tanto arrosto e quindi abbiamo messo in scena 15 numeri di discipline le più diverse, discipline aeree come il tessuto aereo che vedrà il personaggio principale di Alice impegnata, il cerchio aereo, c'è un numero di straps fatto dai Flight of Passion che sono vincitori del Clown d'Oro del Festival Internazionale di Monte Carlo che è la riconoscenza più alta assolutamente all'interno del circo. Ci sono gli intramontabili Yves De Coste e Yves Delphine che da più di 30 anni hanno contribuito alla crescita del Cirque du Soleil, faranno un numero cosiddetto di mano a mano dove faranno delle evoluzioni solo basandosi sulla reciproca forza e presa con le mani. Sono delle cose veramente, di ogni disciplina abbiamo veramente preso il meglio e soprattutto abbiamo preso la varietà più ampia possibile di disciplina. Abbiamo messo musica dal vivo ma ovviamente non chitarra, batteria e cose, abbiamo scelto, ho scelto, Guim Desk che con uno strumento ultramillenario come la Ghironda attaccato a una loop station la fa diventare una cosa assolutamente incredibile. Abbiamo canto dal vivo, la nostra amica australiana Ellie Huber che fa il numero di trapezio volante e canterà contemporaneamente. Quindi insomma veramente chi più ne ha più ne metta ci siamo sbizzariti e per questo credo che la terza edizione di Alice è venuta veramente anche di gran lunga superiore alle due edizioni precedenti e quindi Genova siamo venuti da voi e questa occasione non è da perdere assolutamente. Botteghini aperti, sabato 22, domenica 23 aprile allo Stadium, a San Pier d'Arena. Possiamo dire che questo è un circo non nella cosiddetta accezione del termine, è il nuovo circo e ha esibizioni di tale livello, qualità e talmente entusiasmanti che sono per tutte le età, insomma non è solo per bambini. Assolutamente sì, per tutte le età, diciamo per bambini di tutte le età, dai 2 ai 92 anni. Quello che ci tengo a precisare è che noi radichiamo comunque la nostra performance nella storia della tradizione del circo pur rinnovandolo completamente. Cosa significa? Che il circo contemporaneo o cosiddetto come un francesismo, il nuovo circo, per esempio, il circo du soleil, con gli anni ha ricoperto, stratificato la performance dell'artista con un sacco di roba attorno. Invece noi abbiamo voluto concentrarci sul gesto artistico e atletico del performance, dell'artista. Significa che questi artisti, a me piace dire, non solo sfidano le leggi della fisica, ma sfidano anche le leggi della chimica, nel senso della chimica delle emozioni, cercando di portare, e sicuramente riuscendoci, a portare al pubblico un'emozione, un gesto non solo atletico ma anche emotivo. Ho iniziato per puro caso a circo, non vengo da una famiglia Cilcense, di la verità. Ho avuto la fortuna di conoscere una ragazza fantastica, che è la mia migliore amica ancora adesso. Lei mi ha trascinata nella mia prima lezione di circo, avevo sette anni, più o meno. Da lì mi sono innamorata, lei, a dire la verità, l'anno dopo ha smesso, io invece ho continuato. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Erika Lemè, che mi ha fatto scoprire il mondo del tessuto, e per me è stata una rivelazione, perché mi sono innamorata di questo attrezzo, propriamente. Che Alice porterà inizialmente? Allora, io rappresento Alice, ma in realtà non è propriamente che raccontiamo una storia, non raccontiamo la storia di Alice. Alice è una ragazza come tutte le altre, inizialmente, dopodiché viene trasportata attraverso il cappellario matto nel suo mondo dei sogni, attraverso il quale va a conoscere le varie qualità umane, come la forza, il coraggio, l'almonia, la grazia, e alla fine, anche in questa stagione, anche l'amore. Quindi, come ha detto anche Onofrio, le varie qualità dell'amore, l'amore passionale, l'amore giovanile, tutte conti apposti tra di loro. Quindi, alla fine, ci sarà un'evoluzione finché lei non diventa adulta. Io ho parlato giustamente con una persona l'altro giorno che ha visto il nostro spettacolo, dopo 5-6 giorni, quindi è passata già una settimana, mi ha detto io di ogni spettacolo ho un'immagine precisa di ogni cosa, di ogni artista. Ad esempio, magari vedo, per il tuo spettacolo ci sei tu a 7 metri d'altezza in spaccata. Per l'altro di Yves de Coste, vedo loro due messi in simbiosi, uno collo a collo. Ognuno ha mantenuto per ogni esibizione un'immagine ben precisa, è quello che noi un po' volevamo, mentre nel silenzialare tante volte vedi il generale, ma non ti ricordi proprio esattamente quello che fa. Senti, possiamo dire che è completamente ribaltato il concetto di circo, qua parliamo di performer sportivi di livello straordinario, qui parliamo di performance sportive di alto livello. Sì, esattamente, si può dire che non è più solo fare tra l'altro un'esibizione, quindi dimostrare io so fare questo e lo faccio vedere, è anche proprio una poesia, portare un pezzo di sé al pubblico, portare un pezzo di sé sul palco e regalarlo. Io ogni volta cerco, l'emozione più grande è proprio di regalare un pezzo di sé, nel senso tu devi trasmettere qualcosa al pubblico, non è più solo fare una cosa per dimostrare che ne sei in grado, ma è farla perché c'è una logica dietro di sé, quindi vuoi regalare qualcosa ed è quello che poi il pubblico si porta a casa.